Buon pomeriggio a tutti! Allora, come ogni anno, siete qui perché vi presentiamo il tema del nuovo anno della CR, oltre che a festeggiare il giorno del tesseramento. Il tema di quest'anno si intitola Pronti a scattare, il tema per i ragazzi, e come si può intuire dal titolo mette come tematica la fotografia, la fotografia che dovrebbe riuscire a mettere al centro i ragazzi e a monitorarne il percorso di crescita. Quindi anche quest'anno, come sapete, la CR è partita con un po' di fatica, ma siamo riusciti comunque a improntare delle riflessioni che ovviamente proseguiranno ed evolveranno nella seconda parte dell'anno. Per adesso ci siamo concentrati sull'evolversi della fotografia. Sapete meglio di noi che scattare una foto non era così facile solo vent'anni fa, anche già vent'anni fa era una cosa totalmente diversa. C'erano i rullini, c'erano le macchine usa e getta. Negli ultimi due o tre anni c'è stato l'exploit dei selfie e di Instagram, tra l'altro anche molti di voi hanno già Instagram se non sbaglio, ma non solo dei ragazzi. E niente, quindi siccome quest'anno non abbiamo potuto fare gli incontri della CR tutte le settimane, abbiamo cercato di fare necessità virtù e sul tema della fotografia abbiamo cercato di realizzare un video per presentarvi appunto il tema di quest'anno. Niente, adesso ve lo proietterò, il video ovviamente è fatto dai ragazzi e subito dopo vedremo l'inno di quest'anno. Buona visione! Famiglia Rossi, in posa! Basta ragazzi, in posa! E uno, due, tre, puff! Ci faccio una foto! Va bene, la cistocchio! Ok, come sono? Ok, io ho fatto 58, vogliamo qual è la più bella? Allora, questa è un rigido! Questa sembra un'acciuga! Ma no, ma sta qua mi sembra una capra! Dai, si è già sfogata addirittura! Questa qua è proprio forza! Vabbè, la lasciamo perdere, Diana! Mamma, è me, chiede a un fotografo, va! Benassi, benassi! 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 Benassi, benassi! 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 bella bella Firolla bella 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 Caro nipote, spero che vada tutto bene in America Ti voglio bene, questa lettera ti arriverà tra due minuti Un bacio d'Ameria Cavolo, oggi è Coppione 19 ed è in America E mandiamogli un messaggio Allora, ecco, allora Tanti auguri Ok, vediamo se ci risponderà più presto Ah, l'ho arrivato un messaggio, vediamo chi è Ah, è Maria Rosaria Guardiamo Tanti auguri per il tuo compiame Oh, che carini, si sono ricordati Ma nemmeno la risposta Grazie mille, anche a voi Ok No, ma davvero Eh ragazzi, dai che vi faccio una foto di ricordo per la serata Va bene Pronte? Mi raccomando, sorridete Cheeeese Cheeeese Grazie per la visione Guardate le foto del papà quando era piccolo Ma che carino Guarda famiglia, guanchita Guarda sul palo da piccolo Guardate che c'è Che bello il mondo che era Per capita Guarda sfini Guardate una bata Guardare il taglio Guardare i계 zone Guardare il taglio Guardare la conservazione Guardare la casa Guardare il taglio Guardare il taglio Guardare il taglio Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sei il maestro che ci insegnerà e un vero scatto sarà. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.